Chiara Paroni, intanto come è andato questo primo derby dalla parte del Tavagnacco? Sicuramente molto bene dal punto di vista del risultato, un 6-0 comunque meritato per le capacità della squadra e soprattutto per l'impegno secondo me che abbiamo avuto per tutte queste settimane di lavoro al campo e di allenamenti, quindi il risultato secondo me è giusto e adesso pensiamo alla prossima partita in casa a Tavagnacco contro il Marcon, sempre Coppa Italia. C'era un po' di emozione a tornare comunque da avversario contro la tua ex squadra? Sicuramente sì, dopo tanti anni che passi con una squadra comunque ricordi ci sono, sicuramente ritrovarti in un campo tuo ti fa comunque un'emozione, hai un'emozione che non saprei descrivere, comunque è stato bello. Quindi adesso questa vittoria vi dà anche la carica, la convinzione per affrontare non solo la prossima partita di Coppa Italia ma anche la prima di campionato con una determinazione diversa. Sicuramente il risultato dei tre punti e della vittoria fa morale e ci unirà ancora di più, ogni partita comunque è a sé e secondo me dobbiamo mantenere i piedi per terra perché comunque siamo all'inizio.